Siamo a prova finale. Alla fine. Andiamo! Si va, si va! Si va, si va! Si va! Ciao! Oggi non va internet. E infatti hanno anticipato la nostra presentazione. C'è un po' di ansia nell'aria? No! Comunque quello lì sotto è bello. Si. L'ho fatto bene. Molto bello. La parte più importante. I quadri di sfondo del video. Questo l'abbiamo dovuto togliere perché purtroppo ingombrava un po' troppo l'immagine. Cioè l'occhio ti chiedeva sul gambo. Secondo me andava anche un po' ingrandito però ogni tutorial ci mi spiace. Questi sono dei prototipi di mappe che abbiamo fatto. Sono gli shot iniziali del video. E li abbiamo fatti in fotobrashing. Questi li ho disegnati bene. Sono molto carini e Bob che ci trasforma. base mesh fatta su Maya. E dopo ZBrush. Tanto ZBrush. E dopo tanta topologia. E dopo le UV. E dopo aver modellato. Si passa al texture. Ecco quale bellissimo UV. Per niente inquietanti. Texturizzate tutto. Fanno rig. Perché io rig non lo tocco. Non metto neanche un join. Ti posso far vedere una magia. Perché ti fai tutto il setup delle braccia. Qua dov'era. Via. Fatto. Magia. Magie nere. E dopo l'animazione. Ecco. Quindi. I personaggi con le prom. Maia che fa fatica a vedere come va fatta. Sì. Volei ferma lì. Questo è quello def. E dopo abbiamo fatto l'animazione anche per game. Eeeh. Tutte fatte in un giorno e mezzo. Ciao. Fino a che ora siete rimasti qua ieri? Quasi mezz'altro. Però. Però dai. Quasi finito. Dormito? Sì. Ho sognato che sto facendo le cose della tece. Cosa presentazione. E' bellissimo. E' tipo il braccio tutto rotto. Anzi è tutto rotto. Bisogna andare sempre più. Bello l'orologio. E' già che non lo avevi mai sentito. Che fego. Ma va. Male. Come? No. Benissimo. Benissimo. Ah. Stiamo finendo tutto. Dobbiamo solo aggiustare due cose e inserire tutti gli audio, la canzoncina e i sound effects. Ora non vedo l'ora di andare al cinema. Sarà bellissimo. Mamma mia. prezzo. Pregno. 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 Agitati? E' caldini. Sì, sì. Mah. Quanto ci vede inizia a produrre il tuo marco? A 0 giorni Quanto? Ho iniziato io inizio Ok, allora L'obiettivo è raccogliere le pozioni prima dei 90 secondi E alla fine dei 90 secondi che le pozioni vince Puoi attaccare come da solito E col pennello mi fai perdere le pozioni per accanto I portali ti spostano da un portale all'altro in modo random Franco, ne stai preparando un altro? Vieni, mi sono da tre Ado? Aspetta Questa è la locandina Deff Miocchia Da nana 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 No, 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 no.